Augurare il Buon Natale cristiano significa proporre all'uomo di oggi l'opportunità di incontrare Dio e farlo entrare realmente nella propria casa, nella propria vita, nelle proprie storie. Gesù si offre a noi, spetta a noi dare la nostra risposta personale a Lui e allora è possibile contribuire a rendere il mondo migliore perché oltre alla nostra volontà mettiamo sopra ogni altra cosa l'amore di Dio per l'uomo. Questo significa sperimentare il Natale. Buon Natale a tutti.